Siamo entrati ormai nell'inverno e quindi i tempi anche delle giornate inizieranno ad allungarsi, in nome anche di quel sole che comincia a riprendere piede in modo più massiccio sulla terra e che probabilmente ha fatto porre anche la celebrazione del Natale il 25 di dicembre, cioè intorno a questo periodo parlando proprio di quel Gesù che è il sole della vita, quel sole che celebravano già gli antichi romani, c'era una festa appunto dedicata al sole in vitto, al sole che comincia a crescere e che i cristiani hanno pensato proprio perché Gesù è la luce del mondo di dedicare a lui al mistero della sua nascita, della sua presenza tra di noi. Però Don Giovanni c'è anche da dire siamo, abbiamo sorpassato l'inizio dell'inverno, siamo ormai alla vigilia del Natale ma possiamo anche dire che siamo sopravvissuti perché c'era stato annunciato che il 21 di dicembre probabilmente ci sarebbe stata la fine del mondo, così non è stato e allora come ti senti nei panni in questo poter rivivere la vita? Beh prima di tutto ho rivisto le candele dell'anno 1960 quando ero un bambino che me le avevano venduti i testimoni di Geova dicendo che erano le uniche candele che stavano accese perché veniva la fine del mondo, ce l'ho ancora a casa però non è venuta allora, non è venuta neanche adesso perché noi non siamo persone da cose sensazionali, noi crediamo che il mondo andrà avanti finché il Signore lo vuole, che dobbiamo renderlo un po' più bello se ci impegniamo, il mondo sarà più bello se ci impegniamo noi ad ascoltare il Signore e a vivere magari quei messaggi meravigliosi che questo tempo liturgico, il tempo dell'Avvento e del Natale ci propongono. Benissimo allora, vivi e in cammino, tra l'altro questo periodo degli ultimi giorni prima del Natale una volta comprendeva anche quella novena, probabilmente oggi per dare più fiato all'Avvento come tempo unico e forte di preparazione al Natale e anche di sguardo a quella che sarà l'avvenuta poi definitiva del Signore, si è lasciato un pochettino perdere questi aspetti che sembravano un po' ridondanti, però a modo loro anche l'evidenziare che c'è una vigilia così immediata che scalda il cuore e quindi la novena forse aveva anche questo significato, credo che potrebbe essere ancora utile anche oggi. Sì, noi l'abbiamo un po' lasciata, non del tutto perché in ogni parrocchio almeno un canto, un natalizio lo si fa, però hanno ripreso altre novene, cioè nel senso soffrono la novena al supermercato, la novena alle piste da sci, le novene agli abiti, tutte le cose elettroniche, cioè novena vorrebbe dire un tempo in cui veramente stando per arrivare il festeggiato che è il Signore, tu ti prepari in un modo più degno, più vero. Forse oggi la cosa che dobbiamo fare è come fanno quando uno si droga o fuma, disintossicarsi un po' per venire a star bene, per venire a star bene devi un po' spegnere un momentino, abbassare tutte queste luci che ti accendono per andare al cuore della realtà, cioè cammini poi verso dove, verso chi, verso le mangiate, verso le piste da sci con tutto il rispetto, ma è questo il motivo per cui tu sei nella gioia, anzi tanta gente magari in questi giorni non potendo andare, oppure andando come è capitato a qualcuno e rompendosi una gamba o col portafoglio rubato, hanno detto ma che Natale è? Se mi sono rotto anche una gamba, ma ha rubato il portafoglio che è Natale, ecco forse fagli vedere che Natale non è proprio questo, qualcosa d'altro. Tra l'altro questa domenica quarta di avvento è proprio all'insegna anche del cammino e troviamo nel Vangelo quella bellissima immagine Maria che dopo aver ricevuto l'annuncio che diventava la madre del figlio di Dio che si faceva uomo, si mette in cammino verso la casa della cugina Elisabetta e in questo modo anche Gesù in Maria e insieme con Maria si mette in viaggio. Direi che questo pellegrinaggio che poi appunto ci fa chiedere se siamo tutti pellegrini anche noi siamo chiamati a metterci in viaggio, però è bello pensare innanzitutto che c'è un viaggio di chi viene incontro a noi che è poi l'annuncio più bello che il Natale ci porterà. Sì, noi cristiani siamo gli unici a dire che Dio è venuto incontro a noi, è Lui che ci ha cercato, quindi Lui viene e certo noi non dobbiamo scansare questa Sua venuta e andargli incontro con gioia, con umiltà e sapendo che Lui viene per restare con noi. C'era una volta un santo che diceva, essendo stato chiamato dal Signore, gli ha detto così questo santo, vedi Maestro adesso sto pulendo la cucina, non posso e il Signore gli ha detto non dire sto pulendo la cucina, stiamo pulendo la cucina, cioè questo Signore che viene pone la tenda, cioè si ferma con noi, sta con noi nella nostra vita, nei nostri desideri, nelle nostre gioie e anche nelle nostre difficoltà. Quindi la cosa più importante, se Lui viene in una determinata maniera, noi non prendiamo un'altra strada, se no rischiamo di non incontrarci mai. Tra l'altro questo cammino, questo venire di Dio tra di noi, questo essere chiamati noi a metterci in cammino, è anche un po' plasticamente evidenziato nel presepe. E' bello perché se c'è una cosa simpatica e nel presepe è proprio lo studio di tutti quei personaggi, quelle statuette che vengono poste qua e là e che sono tutte direzionate verso la grotta di Gesù. E uno degli impegni quando si fa il presepe è anche quello di segnare i sentieri, lo si faceva magari con la farina, lo si faceva una volta con la segatura, però questi sentieri credo che vogliano veramente dire, tra l'altro la parola via nel Vangelo è presentissima, Gesù stesso dice io sono la via, per cui tutta la gente che è in cammino, forse c'è qualcuno anche che invece cammina all'incontrario o c'è un erode che è fermo nella sua superbia e nella sua supponenza. Quindi direi in fondo il senso del vivere è questo, gente che sta camminando, che sta camminando nella direzione giusta o gente che rischia di andare altrove o di stare beatamente fermo ma di una beatitudine che tradisce soltanto un'ansia dentro la persona. Sì e pensa questi uomini, questi diciamo così statuine, noi un tempo Don Leone dicevamo una preghiera davanti al presepe e li spostavamo magari di 3, 4, 5 centimetri verso la grotta, cioè verso l'incontro con Gesù che era ancora vuota però era tutta in attesa, c'era Giuseppe, c'era Maria. Certo qui tra noi uomini c'è una parola da capire bene, se siamo dei vagabondi o dei pellegrini il vagabondo non ha una via, corre dietro tutte le stupidate che gli inventano, è come uno che va a funghi, speriamo di trovare un fungo ma non sa dove lo trova. Noi invece seguendo queste vie arriviamo dal Signore che diventa poi la nostra via, di fatti lui poi l'ha detto, io sono la via, la verità, la vita, cioè se tu segui la mia via giungi alla verità e avrai la vita, una vita felice, ciò che veramente desideriamo. Quindi forse la vita felice non sta nel fare delle feste o nel riempirci di cose ma nell'incontrare questa persona che è Gesù, che è davvero la nostra festa, la nostra felicità, la nostra vita. Tra l'altro c'è quella bellissima immagine che poi usa l'Evangelista Giovanni e che mi piace un po' nel pensare a questo venire tra di noi di Dio, questo farsi uomo, perché noi lo pensiamo appunto nato secondo la tradizione in una grotta, non c'era posto appunto in un alloggio migliore, però Giovanni usa la parola mettere la tenda e direi che certo parlando poi a un popolo che aveva vissuto l'esperienza dell'Esodo quindi si attendava e poi non sostava sempre lì, si muoveva. Il pensiero appunto di un Dio che ha messo la tenda in mezzo alle nostre tende, praticamente il nostro accampamento umano ha al suo centro anche la tenda di Dio e il fatto della tenda, il fatto dell'accampamento direi innesta delle bellissime riflessioni sia sul modo di relazionarsi, sia sul modo di non sentirsi stabili sempre in un posto e la terra non è la nostra abitazione definitiva, sia il fatto che questa tenda poi come dice il Salmo un giorno si arrotolerà, Signore hai arrotolato la mia tenda, come dire il mio cammino di pellegrino sulla terra è finito. Mi piace questa espressione del mettere la tenda tra di noi. È bellissima perché l'amicizia con un uomo o una donna solo per una notte non ha senso, cioè l'amicizia si sviluppa giorno per giorno, ecco quindi che il Signore viene per stare con noi, il suo stesso nome è Emmanuel, vuol dire Dio con noi. E poi questa immagine della tenda richiama un pochettino anche le nostre parrocchie, tante tende, tante case, al centro la chiesa, di solito il campanile, la chiesa che è la tenda del Signore in mezzo a noi, Dio che abita con il suo popolo, di fatti parrocchia deriva dal greco o ichia vuol dire casa, parà, Dio vicino, parà vuol dire vicino alla tua casa, il Dio con te, il Dio che non ti abbandona, quindi qualche volta anche c'è della gente che soffre di solitudine e roba del genere, teniamone conto che non si è, da quando lui ha posto la tenda noi non siamo mai soli. Don Giovanni c'è anche un po' un interrogativo sul vivere il Natale, certo lo viviamo nella fede, la memoria di questo evento storico, la certezza di un Dio che cammina con noi, l'annuncio di questo ritorno definitivo e glorioso del Signore a raccoglierci tutti nella sua dimora eterna, però c'è anche il pensiero in effetti di un Natale che parla di gioia, che parla di letizia, dentro anche preoccupazioni, fatiche, cioè il momento umanamente è faticoso, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista anche delle relazioni se vogliamo, non è un tempo e probabilmente le cose hanno anche un legame tra di loro, quando non c'è la certezza di alcune cose che si vorrebbero, si rischia un pochettino anche sul piano delle relazioni e forse anche sul piano della fede. Potremmo chiederci Don Giovanni, quale Natale anche dentro questo momento di crisi, questo momento di fatica? Io sulla voce di Vertova, che è un po' il nostro piccolo giornale della parrocchia, ho messo che più i problemi aumentano, più c'è bisogno di Natale, perché probabilmente tutte queste cose che ci sono oggi nella famiglia, nel lavoro, nell'educazione dei figli, dipendono non dal fatto che il Signore non è con noi e non ci aiuta, ma dal fatto che gli uomini non l'hanno e non lo vogliono ascoltare, cioè si vuole costruire la pace senza il re della pace, si vuole costruire l'amore nella coppia e nella famiglia senza il re dell'amore, si vuole far imparare i principi universali, non negoziabili ai figli, alla società senza colui che è la verità. Quindi noi diciamo abbiamo bisogno tantissimo di celebrare il Natale, però nel senso di ascoltarlo e prenderci cura gli uni degli altri, perché se il Signore ci abbraccia io devo abbracciare, se il Signore condivide io devo condividere, cioè un cristianesimo molto pratico e molto normale, quello di Giovanni Battista al fiume Giordano, hai due tuniche, danne una anche un altro, tu che vai sempre in palestra per fare la dieta, cerca di dare qualcosa a chi non ha mai visto un pane bianco. Ecco i problemi si risolvono facendo del bene, quindi il Natale è una proposta concreta a ogni uomo di dire prenditi cura nel tuo piccolo. Fra l'altro poi quel piccolo che io, quella cosa piccola, quella goccia d'acqua che io do al mondo di oggi non risolve i problemi del mondo, ma risolve il mio problema di essere un uomo per gli altri ed essendo io per gli altri incomincio ad avere la ricetta della gioia, la gioia sta nel dare come Gesù ci ha insegnato. Ecco dentro questo tempo di Natale che ormai si fa vicino, un po' anche la liturgia direi che si colore in modo del tutto particolare e i canti. Don Giovanni tu tra l'altro sei un esperto di canto e di musica, ecco un po' anche questa melodia direi, a volte qualcuno taccia un po' i canti natalizi di sentimentalismo, è chiaro che il Natale è tutt'altro che sentimento, lo dicevi adesso tu, prendersi cuore di un Dio fatto uomo e in lui di tutti gli uomini in spirito di condivisione e di solidarietà, però direi c'è anche il senso di un sentimento attorno a un bambino, credo che questo è naturale e credo che anche i canti quindi vadano un po' salvaguardati, utilizzati, il rischio a volte che certi canti di Natale non si conoscono neanche più, forse non si cantano neanche più anche nelle nostre chiese, direi che non è un aspetto così secondario del celebrare questo evento della fede. Beh, cantano i canti delle renne, dei babbi natali con strumenti elettronici, dimenticandoci un momentino di tutto ciò che la tradizione, la preghiera, la fede ci ha insegnato, ricordandoci che davvero il cambiamento del mondo non inizia da Roma, da New York, da Parigi, ma inizia da Betlemme, dal potere un momentino guardare quella luce e cantare il canto è un'espressione anche della nostra fede, della nostra gioia, chi canta, chi è nella gioia, la gioia viene dalla presenza del Dio con noi. Quindi diremmo che anche tutto quello che oggi fanno, non so, le corali, le bande musicali, le persone, per ricordarci anche tutto quello che la tradizione ha creato perché il Natale non è soltanto nel 2012, ha 2012 anni, quindi ognuno ci ha messo del suo, sentire quelle musiche è un po' metterci in contatto anche con tutta la storia, la tradizione, con il respiro della fede delle nostre valli. E le sacre rappresentazioni? Perché poi c'è una liturgia che celebra e rende evidente per noi oggi questa presenza del Signore perché non facciamo lì teatro, facciamo liturgia, quindi il Signore nei segni sacramentali rivive questa sua presenza tra di noi. Le sacre rappresentazioni credo possano avere anche loro un bel significato, soprattutto coinvolgono magari anche tantissima gente, è giusto però che vadano intese un po' anche nel modo opportuno anche per evitare magari delle confusioni tra liturgia e sacra rappresentazione. La grotta più bella certamente è l'Eucarestia, è l'altare, lì Cristo che sta con noi, però molte volte noi abbiamo bisogno anche di vedere, di toccare, ecco allora non so la famiglia che ha avuto il bambino, che fa Giuseppe, fa Maria, il pastore che porta le pecore dalla montagna, tutte cose belle se non vengono vissute come esibizionismo o da parte degli altri come critica, ha portato i pecore, ha portato una fa per farsi vedere quella lì, guarda se deve fare la Madonna con quello che combina. Ecco, se diventa invece un'occasione per rendere vivo un evento come quello di Cristo, bene, certo noi molte volte siamo molto inclini a puntare il dito o a fare delle osservazioni. Cioè tutto ciò che si crea è bello nella misura in cui tu hai un po' il cuore pulito e guardi le cose con gli occhi del Signore. Io direi che nelle nostre parrocchie se ci sono non sono da cancellare, tutt'altro sono da favorire e a volte anche i cosiddetti saputeli di dire ascoltate c'è posto anche per voi, venite, abbiamo bisogno anche di voi attorno alla grotta di Gesù. D'altronde dicono che il primo presepe l'ha fatto proprio San Francesco in quella notte a Greccio con le persone vive, quindi una sacra rappresentazione del Natale che proprio perché fatta con cuore, non per esibizionismo, ha aiutato a capire il mistero della presenza della venuta del Signore tra di noi. E quindi anche il fatto dei presepi nelle case sono importanti o nelle chiese, soprattutto anche per un cammino educativo delle giovani generazioni che tante volte sono aiutate meglio a cogliere il Vangelo proprio attraverso anche questo modo di raffigurarlo e di rappresentarlo. Don Giovanni siamo ormai alla vigilia del Natale, siamo ancora in avvento per carità, ma ormai la grande veglia sta davanti a noi nella notte, chi potrà, gli altri nella giornata del Natale, a dire il nostro grazie al Signore che ha voluto essere compagno di viaggio, addirittura farsi solidale con noi in tutto e per tutto, perché poi la storia di Gesù parte da lì, ma è il Cristo che cammina verso Gerusalemme, è il Cristo che finirà su una croce, è il Cristo che morto risorge, è il Cristo che torna al Padre, non si può dividere la storia di Gesù Cristo e fare qualche capitolo sì e qualche capitolo no. Ecco allora, il Natale ci introduce in questa stupenda storia in cui si è coinvolto Dio e in cui siamo coinvolti fortunatamente anche noi perché lì sta la nostra pace e la nostra salvezza e quindi l'augurio, l'augurio a ciascuno di voi, l'augurio a tutte le famiglie, l'augurio alle nostre comunità parocchiali, ai nostri paesi e vorremmo un augurio che arrivasse in tutto il mondo, soprattutto là dove c'è meno speranza, dove c'è più fatica, dove c'è croce, dove c'è malattia, dove sembra esserci abbandono. Ecco lì l'augurio che non è fatto soltanto di una parola, ma l'augurio stesso è Gesù, il Dio con noi e sapere che il Signore cammina con noi credo che non può che rallegrarci. E questo è il migliore augurio di Buon Natale che faccio a te Don Giovanni, ai nostri amici qui di Antenna 2, a voi che ci ascoltate e tramite voi a tutti, che sia veramente un Buon Natale.